Ok, buonasera Depeche Mode, siamo in Italia, tu parla italiano? No, 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 allora si chiamano Depeche Mode, che è un nome francese, è un gruppo che sembra molto britannico, you look very British, very elegant, very chic, molto chic, è un gruppo britannico nuovo, è la prima volta che l'ho veduto, sono lieta che stasera di presentarlo in esclusiva, sono molto giovane, you're very young, I'm saying to speak, I'm saying to speak, how old are you? I'm 19. You're 19 and you're the oldest? No, I'm the youngest. I'm 20. 20? 20. 20? Oh my god, sono ragazzini, sono ragazzini, hanno 19, 20 anni, è un gruppo veramente che fa una cosa enorme in Inglaterra, tutte le ragazzine, i ragazzini copiano i capelli suoi e le pettinature e le ragazzine sono innamorate di lui. Vogliamo far vedere il lead singer perché c'è nel naso, I want to show to our Italian viewer that he's got a little something in his naso, c'è un nasone con un affare dentro qua, e tutte le ragazzine in Londra lo copiano perché sono innamorate di lui. Now, would you like to come to Italy? Yes. Definitely? Oh, you've got a plan a tour? Uh, well, we haven't, we haven't actually planned the tour yet, but we're definitely you two in Europe. You love it. Yeah? Oh, vanno a fare una tournée in Europa. Quando, when? March. March. Ah, da marzo in poi saranno da noi in Europa a fare tutta la Germania, Italy, France, Germany, etc., tutti. E' un gruppo recentemente, recento, e c'è solo un anno, there's only what, a year that you're together? Year and a half. Year and a half, no, yeah. Un gruppo nuovo, sono tutti giovani, allora vi voglio presentare, si chiamano Depeche Mode, che è un nome francese, però vi voglio fare vedere come veramente si chiamano le realtà. Allora, credo che qui abbiamo Martin, I forget, you know, names, I'm not very good, I remember your hair. And Andrew? See, I remember. And here we have Vincent. I bet you didn't know I remember. And the lead singer? David. David, you have to speak in your mic. David. David. David, con noi stasera. Dunque sono veramente lieto di cominciare un anno nuovo con un gruppo nuovo, un gruppo giovane inglese, Depeche Mode, con noi stasera. Le ascoltiamo per un'altra canzone.